Osservando la lista 29, l'aspetto che più salta all'occhio è la giusta posizione di un numero a ciascuno dei primi quattro elementi. A uno sguardo più approfondito si intuisce che queste cifre indicano con tutta probabilità il valore pecuniario delle voci alle quali sono abbinate. Si coglie quindi immediatamente la portata rivoluzionaria di questo approccio listografico. Mai nessun autore si era spinto a inserire dei prezzi, oltretutto con precisione decimale, direttamente in una lista della spesa. L'osservatore si trova dunque di fronte a un cortocircuito temporale, un elemento che viene sempre svelato solo a spesa conclusa, il prezzo, e perciò alieno per sua natura ai contenuti listografici è qui anticipato imprimendo alla lista un carattere surreale. È necessaria un'osservazione più consapevole della lista e dei suoi contenuti per cogliere il senso di questa scelta. Quello che infatti l'autore sembra volerci comunicare è che certe cose non hanno prezzo. Si osservi con attenzione la struttura dell'elenco. Abbiamo quattro voci alle quali sono abbinati i relativi prezzi, seguite da altre quattro senza. Già questa simmetria è indizio di un impianto narrativo molto ponderato. Inoltre la frattura tra elementi prezzati ed elementi che non hanno un prezzo parte da una voce che rappresenta la rottura con l'approccio ideologico capitalista che attribuisce un valore economico a qualsiasi cosa, quel guardare fiori, un invito a prendere del tempo per noi e godere delle cose belle e semplici che ci circondano e che, appunto, non hanno prezzo. Anche le voci che seguono, gelati buoni e barattoli per alimenti fatti in casa, ci parlano di scelte improntate a ritrovare la gioia nei piaceri più semplici, quasi un manifesto per una decrescita felice in contrasto con l'accumulo costante di beni che l'attuale sistema economico ci impone. Alla luce di tutto ciò, ecco che cogliamo anche l'estrema coerenza narrativa nella massima a piedi pagina che l'autore ha scelto come sfondo della sua opera. Un niente che nel momento in cui lo godiamo ci sembra tutto. Lista 29 Pesche 1,29 Pecorino dolce sardo 1,39 Biraghi grattugiato 1,00 12 rotoli regina 5,75 Guardare fiori Gelato Cornetti piccoli, buoni Vaschetta Vasi per pesto 1,32 Guardare fiori Dottore 4,75 Vasi per pesto Vasi per pesto Grazie a tutti.